Buonasera youtuber, sono Saraccia Lionwolf e oggi siamo a un nuovo video unboxing. Di che cosa facciamo oggi l'unboxing? Come potete vedere faremo un video unboxing di questa nuova cover per Nintendo 3DS, ovviamente New Nintendo 3DS XL. Infatti questa cover è disponibile solo per Nintendo 3DS XL e New Nintendo 3DS XL, perciò non sarà disponibile per le versioni basilari, ovvero quelle standard piccoline come New 3DS normale o Nintendo 3DS, quello probabilmente il modello precedente. In pratica circa un mesetto fa ho ordinato su ebay questa cover dal Giappone, infatti come potete vedere è giapponese, è scritto tutto completamente in giapponese, non ho idea di cosa ci sia scritto, sinceramente non ne ho idea, è fatta a gattino, è bellissima in silicone, vedete è completamente in giapponese, infatti non mi ricordo da dove viene esattamente, Miyagi, sì, Miyagi, la prefettura di Miyagi è una città particolare, però non mi ricordo quale. Comunque si trova al centro in Giappone, è un posto molto bello dove ci fanno per esempio, è molto famoso per il festival estivo che fanno chiamato Matsuri o festa del Tanabata, ovviamente è la festa dei desideri dove attaccano all'albero, un alberello qualsiasi o un alberello di bambù, dei fogliettini colorati con scritto il tuo nome e il desiderio dietro, lo so perché praticamente a Firenze ogni anno a luglio fanno in una villa chiamata Villa delle Limonaie mi sembra, una festa appunto come il Tanabata ci sono stata l'anno scorso, quest'anno mannaggia me la sono persa, infatti mi sono mangiata i gomiti, comunque ritornando a noi appunto avviene da lì, tutto giapponese, guardate, oh mio addio, c'è questa cover è stata in Giappone, ha girato, ha attraversato il mondo e adesso è qui tra le mie mani, che bella, ok, tutto giapponese, bla 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 bla, fatta a gatto, mio dio, me la sono fatta prendendo a mio amico perché io non so, non so, non so, non so prendere le cose su ebay, in realtà sono molto negata e faccio sempre prendere le cose dagli altri, dagli altri, da questo mio amico, sono lui, allora, chiedo scusa anche, infatti che non ho trovato un posto dove appoggiare il cellulare per fare questo video, per cui devo farlo, con una mano devo fare il video e con l'altra devo scartare tutto quanto, allora, che cos'è sta roba? Ah, ok, ok, cioè non, ah, ah, ok, sarebbe tutto molto più facile se usassi due mani, guardate dentro, Hi, I'm Mike, bellissima, sì, infatti ci sono vari tipi, c'è questa che è quella Mike e poi c'è anche Saba, se non sbaglio, che è quella grigia tigrata, comunque sotto questo video vi lascio anche il link se volete comprarla anche voi su ebay, quindi, l'ho pagata, costava 30 dollari, che sono 27 euro più 11 euro di dogana, lo so, è tantissimo, però, allora, buttiamo tutto via, oh mio Dio, è liscia, oh mio Dio, è spettacolare, ahhh, calma, tagliamo tutto il coso, via, che spettacolo, è bellissimo, allora, vabbè, questa, sto volando via tutto, tutto quanto, oddio, è morbido, ok, allora, adesso viene la parte difficile, perché con una mano, allora, è molliccia, non è, c'è, cioè, anche se c'è scritto, praticamente, hard case, chiedo scusa se non ci vedete un attimo, però, oh mio Dio, sono, questo unboxing è pessimo, perdonatemi, però, non riesco, cioè, ma ti penso, questo mio amico, quando vedrà questo video, perché sono sicura che lo vedrà, penso che mi odierai, mi scriverà, perché non ti compri un affare, mi si ama, no? Ma ci sta, ah, ok, no, non ci sta, non l'ho incastrata, ecco, non sono capace, non ci starà mai, cos'è? Non ci sta, no, 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 no le orecchie e poi ci sono i buchi della telecamera dove ci sono gli occhi del gatto è bellissima, è spettacolare, io sono contenta, c'è la coda dietro, c'è la bacchetta e qui dove c'è lo spazio per la schedina è troppo bella, comunque come stavo dicendo adesso sembra che quasi che non ci stia però in realtà ci sta, col tempo il silicone cede e si adegua alle parti quindi dopo un po' ci starà benissimo, non sembrerà più che non sia incastrata, nessun problema ora, che botta, va bene, quindi questo come così lo vedrete con le orecchie, lo girate di qua, è così, or dunque spero che questo video vi sia piaciuto, chiedo scusa, scusate vi prego non uccidetemi, chiedo scusa per il movimento e per tutto lo scartaggio, ecco non è stato uno dei migliori, però con una mano sola insomma, sì mi comprerò sicuramente qualcosa prima o poi per far star fermo il cellulare perché così no, ci siamo ovvia, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi, per tutte le informazioni basta che mi commentate ovviamente le richieste, insomma sempre nei commenti io vi risponderò il prima possibile, quando non ci sono ovviamente non posso rispondere per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti